Amici 3B Meteo, benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B. Partiamo dall'immagine del satellite che ci mostra oggi qualche nuvole in più sulle regioni nord-occidentali e sul versante tirrenico. Nuvole di poco conto, anche se nel corso del pomeriggio qualche acquazione e qualche temporale spunterà fuori, soprattutto sulla fascia alpina-prepina, sull'alta pianura padana e qualche piovasco anche tra il Levante Ligure e l'alta Toscana. Nei prossimi giorni però capiterà poco o nulla perché guardate, sull'Europa occidentale si presenta questa zona di bassa pressione ma rimane confinata a questa parte del continente, da noi anzi pressione atmosferica in aumento col passare delle ore weekend tipicamente estivo. Lo vediamo anche da quest'altra immagine che ci mostra le temperature previste per la giornata di venerdì, va all'orentone ai 30 gradi all'ombra e nel fine settimana ulteriore rialzo perché guardate, nel weekend aria calda in arrivo dal Nord Africa andrà a interessare l'Italia, soprattutto le nostre regioni centro-meridionale, quindi caldo che diventerà davvero il vero protagonista. Nelle zone interne del centro-sud toccheremo anche i 34-35 gradi all'ombra, questi sono i valori che registreremo nei principali capoluoghi però, ripeto, in alcune zone anche di più. Con questo è tutto, per i dettagli sulle vostre località scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.